8, 9, 10, ci abbiamo pure il bolle della corona, vai! Magari leggendaria, eh! Magari così, dico! A cazzo! Bella a tutti ragazzuerti, oggi siamo ritornati su Clash Royale. Nello scorso video abbiamo fatto un chest opening e abbiamo trovato tanta, tanta bella robetta. Vi lascio qui la scheda, andate a vedere il video che c'è lì. Allora, cambiamo deck, questo qui è il deck che adesso sto usando, sono, come sempre, l'anena 10. Mi raccomando, lasciate tanti bel like, cerchiamo di superare i 75, 80, 90, 100, mi piace, 95, 100, 22, 73, 44, 25. E partiamo subito con un mini pecca e sgherri, intanto l'occhio che mi lacrima. Ah, vai così, partiamo subito alla c***a di cane, queste qui li sciottiamo con la scarica e quindi è tanta roba, almeno una botta di Italia. Beh, non lo so se li ho tirate, comunque guardate quanti danni! Allora, io devo per forza fargli fuori quel coso, quindi li mandiamo l'iuminatore, così almeno li dà delle palate proprio al tubo, che mamma mia! Ok, perfetto, perfetto. Adesso, adesso, ancora? Ma allora sei babbuino sei, eh! Allora, io attaccherei così e così, vediamo un po' come va quest'attacco qui, perché tanto da quella parte il mega sgherro è morto. Lui ha tirato la... non so... una buona mossa, ma neanche buonissima, eh! Ora, ci tocca un attimo far girare il deck velocemente, perché dobbiamo andare a mettere il minatore che deve andare a distruggere quella merda di cosa. Quindi vai così, mamma mia, che cosa mi ha calato? Che mi ha calato? E mo' come minchia mi dipendo da quello, io? Eh! Però intanto guardate la torna... Madonna mia, madonna mia, ragazzitti tutti. Ragazzi, ragazzitti, madonna ragazzitti tutti! Maronna mia! Aspetta, aspetta, zap! Mamma mia, ragazze, intorno... cioè... Mamma mia! Così, a caso! Tre corone, così. Va bene, ok, non mi lamento io, va benissimo, va, 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 bauri della corona, vai, vai! Mettiamo subito a sbloccare questa, andiamo a fare... Comunque il deck che ho creato è... Il mio parere è forte! Comunque, vediamo un attimo, mettiamo un attimo qui la principessa, così ci fa fuori... No, aspetta... Ok, va bene, va bene, basta che non mi colpisce la principessa, carissima! Dietro di te stanno venendo... Principessa, ciao, ciao, principessa, è stato un piacere conoscerti. Vi facciamo un attimo il nostro attacco, comunque lo stregone elettrico al due, ragazzi, fa paura, eh! Fa paura! Eh, vabbè, ma qui proprio danni a go-go, eh! Qui proprio danni a go-go, a go-go! Ma hai rotto la minchia tu, sto free antivirus, eh! Ma mamma mia, non so neanche se voi lo vedete! Devo un attimo cercare di fargli danno col minatore! L'unico modo è questo qui, dai, calami l'orda, perfetto! C'è l'orda, vabbè, ma avete capito... Eh, ora però, ora però, ora però, ora però faccio così... Intanto, guardate, 777! 777! Dpg, putg! Vai, vai, qua so c*** di amare! Qua lui mi ha buttato giù la torre, che c***o posso fai? Allora, io cerco di nuovo il domatore, lo sto usando poco e nulla, perché comunque... Ecco qua, appunto, perfetto, perfetto! Ha rotto la minchia telefono di merda! Allora, devo un attimo cercare di non far morire la principessa, ok? Allora, lui ora, sicuramente, si sta preparando con un mega attacco, che mamma mia che attacco mi farà? Allora, aspetta un attimo, ok, grandissima principessa, che va a ammazzare pure l'arte! Quindi, proprio, gg per la principessa, hashtag gg per la principessa, qui sotto nei commenti! Allora, tantissimi danni a quella torre di merda, ok? E fin qua ci siamo! È dura, eh? È dura, non pensate, è dura! È veramente dura, 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 come il sole! Lui mi sta facendo un botto di danni con quel coso che, mamma mia, veramente! Comunque, raga, sicuramente, sta partita qui andrà in pareggio, molto probabilmente, eh? Almeno, ok, poi, cioè, non c'è tipo un miracolo di Gesù! E attenzione, attenzione, attenzione per 700 e baffa! Altra partita, siamo contro Lucas Mattos! Buona fortuna, io ti muto, perché sono una cap... Partiamo subito con un minatore qui, vediamo un po' che danno riusciamo a fare! Comunque, abbiamo tante truppe che vanno direttamente sotto la torre! Questo qui a me fa molto piacere! Madonna, raga, ora sto... Butto via il cellulare, ve lo sto dicendo io, eh! Hai rotto la minchia, telefono! Come cazzo lo devo dire in giapponese? No, raga, 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 la devo spegnere, la devo spegnere perché, porco... Basta! Mi arrivano messaggi a non finire, minchia, manco se sono... Che mi cerca tutti! Dai, con la zap qui, ovviamente, oddio, qua quanti danni, quanti danni! Vai, partiamo con un domatore così, vediamo cosa ci cala, vediamo cosa ci cala... Buonissimo! Buonissimo, buonissimo, buonissimo! Va bene, va bene, va bene, va bene, veloce principessa, principessa, per favore, falli fuori, falli fuori, falli fuori! Mamma mia, bravissima la mia principessa! Ora, mettiamo un attimo un minatore così, vediamo cosa riusciamo a fare... Ok, intanto abbiamo pure due spettatori... Vai così, mamma mia, guardate quanti... Madonna, quanti danni! Madonna, forse abbiamo pure buttato giù la torre... No, Madonna, mi ha preso di mira il coso, mi ha preso di mira... Va bene, fa niente, non dobbiamo assolutamente prendere più danni alla torre... Cioè, no, proprio no... Vabbè, comunque lui la torre, a mio parere, l'ha buttata giù, eh... Non è la torre, lui me l'ha buttata giù... Questo qui fa 77 di danni... Quindi comunque dovrei buttarla giù... E gliela butto giù, che culo! Ah, lui, da quell'altra parte, raga, mi sta... Mi sta per fare un att... Lo sapevo io... Madonna, è la fine del mondo... È la fine del mondo... Addio, raga, siamo morti tutti! Tutti morti! Ciao, è stato un piacere conoscervi! Siamo tutti morti! Buonanotte, buonanotte... Ma do quanti danni... Ancora, ma insiste ancora a mettermi sta minchia di cose! Vaffangulo! Madonna, guardate anche la principessa che sta lì a destra, che in mano mi sta dando! E zitti tutti! No, puttana! E che cos'è? Dai, una botta! No, raga, non ci voglio credere... Non ci voglio credere... Dai, ti prego! Ti prego! Ti prego, minatore! Fammi tu un miracolo! Dai! 259! 188! 117! 46! Oddio, oddio! Abbiamo vinto! Così! A caso! Ma chi è stato che ha buttato giù la torre? La principessa, penso! Grande principessa! Non so che minchia la buttava... Che grande principessa! E 8, 9, 10! Ci apriamo pure il bolle della corona! Vai! Magari leggendaria, eh! Magari così dico! A caso! A caso! A caso! Ma ha rotto il c***o! Mi ha rotto la minchia! Basta, Mastino Lavico! Basta! Non ci credo! E dai, però! Non è possibile! Non è possibile! C'è, ok, va benissimo! Leggendaria! Ma basta, Mastino Lavico! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Oddio! Cioè! Oh! In tre giorni ho trovato 75 leggendarie! In tre giorni! Mi sono quasi completato tutte le leggendarie! Così a caso! A fine video trovo il Mastino Lavico! Nel baule della corona! Mamma mia! Ok! 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 Va benissimo! Va benissimo! Va bene! Questo episodio qui è andato più che bene! Più che bene! Cosa posso dire? Niente! Non posso dire nient'altro! E se vado a perdere sto video mi c***o come non mai! Mamma mia signori! Signori madonna! E mai che mi esce una tronco! Però la tronco! E voglio questa! Voglio! Non basta con sto min***a! Dico! Basta! Me la posso portare al tre! Sì! Ma basta! No al tre! Al due forse! Non lo so! Al due o forse tre! Non lo so! Comunque basta! Va signori! Vabbè! Io sono più che contento! Veramente! Se il video vi piace lasciate tanti bel like un commento! Iscrivetevi al canale! Se ancora ve li fate! Intanto sto vedendo lì l'orologio! Perché tra un po' me ne devo andare! Da passato Stardetti! E ciao!